Grandi cambiamenti anche nella Baldaccio Bruni di Andieri, infatti dopo la separazione con Renato Borgo destinato ad andare nell'eccellenza Umbra dove guiderà il Lama, se ne va anche lo storico preparatore atletico Cino Faraglia per anni collaboratore di Mezzanotti e da 5 stagioni alla Baldaccio Bruni. Faraglia è dato anche lui in direzione Lama dove collaborerà con lo stesso Borgo. Ad Andieri il DS Alessandro Bruni ha raggiunto di fatto l'accordo con Luca Baldolini nella passata stagione allenatore in promozione Umbra del Selci Nardi. Con lui ci sarà Lorenzo Comanducci che ha un passato nella Baldaccio Bruni di Andieri come calciatore. Per certi aspetti Bruni ripercorre la stessa strada di un anno fa quando andò a Montone per accordarsi proprio con Borgo. Per Baldolini che vanta una solida esperienza nei settori giovalidi della zona è un salto importante in un campionato molto delicato. in casa della Baldaccio Bruni adesso il primo obiettivo sarà quello di capire il futuro del giovane puntero autorità che potrebbe andare a Città di Castello.